Buongiorno, che cosa facciamo vedere? Oggi facciamo vedere come Perfect Mousse ci può aiutare nel nostro corso di lavoro e in caffetteria. Olè! Il nostro amico, perché lo chiameremo amico, riconosce la lattiera sia per tipo di latte. Grazie a me, Nettore Ottico, vi vede il colore, vi vede i rilassini, è bene, è vitale. In più abbiamo una bilancia, invece riconosce il peso, quindi sa che stiamo utilizzando il latte vegetale con la lattiera grande. Abbiamo messo le impostazioni per la temperatura, in questo caso arriviamo a 65 gradi. Vedete? Lui ci sta chiedendo, ci sta supplicando di fare la pasta. Aiuterà a tutti voi paristi e magari a volte si dimenticano di pulire la lanciamacore. Esatto. Devi premere e utilizzarlo. Fa un po' di rinse e via.